La serata di Radio Kiss Kiss con Adriana insieme fino alle 23 adesso Vasco Rossi, come vorrei Ciao Adriana, ma che succede? Ti vedo strana stasera Sì, oggi non sto bene, mi sento strana, poi ho caldo, fa caldo Mi sento poi confusa, non lo so, mi giro la testa Che caldo, sto sudando Dio, veramente una strana sensazione Buon anno